Bene, un altro concorrente che abbiamo avvicinato, Roberto Maini, oggi in doppia veste come agente Browning e rappresentante del team LBF Italia, giusto Roberto? Esatto, quest'anno ho avuto la fortuna, grazie a Angelo De Pascale e al team LBF Italia, di poter fare questa annata importante per il team e quindi tutto bene. Bene, ti vedo impegnato qua in questo circondariale, un po' insolito, è uscito qualche pesce? Sì, nel settore è uscito qualche pesce anche discreto, stiamo provando a cercarli dall'altra parte, dai, la gara è ancora lunga, speriamo di... Bene, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo, Roberto, buon proseguimento. Grazie, ciao a tutti.